Luca Monteforte, buona la prima, questo di Gorna non era mai riuscito a passare i 32 esimi di finale, oggi invece la scaramanzia. Abbiamo fatto contento il direttore. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo spento un po' la luce, dobbiamo lavorare un po' su quello perché sono stati due tempi molto diversi. Primo tempo ho riconosciuto bene la nostra squadra, secondo tempo invece troppo passivi, non eravamo noi, abbiamo lasciato troppo l'iniziativa a loro e hanno fatto vedere che hanno grande qualità, va di una squadra forte, secondo me aveva tante assenze ma sono forti lo stesso. Caccorri all'esordio o è andato subito in gol? Caccorri come i suoi compagni ha fatto molto bene il primo tempo, però ripeto dobbiamo tutti se vogliamo essere squadra aumentare il minutaggio dalla qualità che facciamo e arrivare a domenica che abbiamo.